Continuano le amichevole del Tolentino dopo aver affrontato squadre di categoria superiore tipo Mattelica e Re Canatese. È stato il momento anche del Trodica, tornano alla vittoria ma soprattutto fanno piacere vedere tanti giovani in campo. Ne parliamo con il vicepresidente Marco Romagnoli. Soddisfatti? Sì, più che soddisfatti perché quella che la nostra formula che ci eravamo proposti quella di accompagnare a qualche over i nostri under, chiaramente siamo in pre-campionato sta dando i risultati perché i nostri ragazzi si stanno distinguendo per la capacità di saper giocare bene in campo. Quindi questo sarà un bel problema per mister Passarini che quest'anno potrà contare su 13, 14 se non 15 giocatori di pari livello tutti i titolari. Ecco, tutti i giovani di Tolentino, la dirigenza giovane, lei da quando è entrato insieme a Mazzocchetti, avete riportato un entusiasmo particolare? Diciamo che forse c'è una passione un po' più sincera perché è legata non al giocatore in quanto tale per quello che esprime in campo ma alla persona che in quel momento riveste un determinato ruolo, mi riferisco all'allenatore Paolo Passarini, ex gremisi così come direttore sportivo Sarangeli, quindi conosciuti da tutti anche nella loro vita privata, conosciuti per l'attaccamento che hanno ai colori gremisi e anche per la serietà con cui conducono la loro vita, le loro avventure all'interno del mondo sportivo, quindi animati anche da valori importanti e questo vale anche per i giocatori che poi sono i figli del vicino di casa o il vicino di casa se si tratta di tifosi più giovani, quindi è un bel ambiente e speriamo che arrivi anche qualche buon risultato perché poi questo sicuramente potrebbe essere e dovrebbe essere il giusto premio per il lavoro fatto da chi ci sta aiutando, da quei nomi che abbiamo fino adesso fatto.